Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio che in realtà è un manuale, Christus Christi est Sacramentum, una storia dei sacramenti nel Medioevo di Claudio Baldo Cortoni appena pubblicato dall'editrice domenicana italiana e io come mia abitudine lascio subito la parola al professor Cortoni perché ci parli di questo manuale e di questa storia dei sacramenti nel Medioevo. Prego professore, a lei. Grazie. Dunque il manuale nasce da una diciamo semplice necessità, quella di ricostruire la nascita del settenario perché ovviamente il Medioevo non ha conosciuto, nemmeno la chiesa cattolica romana, un settenario fisso come noi pensiamo. Tale compare ovviamente con Innocenzo III nel 1215 ed è interessante aver mostrato ovviamente un percorso che parte non tanto dalla definizione immediata di sacramento che tutti conoscono ma sostanzialmente parte prima di tutto da un'ambientazione del sacramento all'interno del aspetto più vasto che quello sociale ed ecclesiologico mediovale. Medioevo è caratterizzato da più ecclesiologie che noi troviamo anche all'interno dei stessi manuali sia alto e mediovali che poi confluiranno come struttura in quelle che sono le summe della scolastica però tutto questo va rapportato a quello che noi chiameremo il popolo di Dio o meglio la comunione iniziale che noi troviamo tra la comunità civium cioè l'essere cittadino pieno cittadino di un comune, di uno stato, di un regno oppure la cosiddetta comunità sfidelium che è la comunità della chiesa riunita visibilmente come dice Retario di Verona nell'unica celebrazione che sarebbe quella eucaristica dove l'uno, il singolo, la persona si ritrova come unica persona che poi noi chiameremo chiesa mistica come prodotto ultimo del sacramento dell'eucaristia. Il manuale fa vedere esattamente come sostanzialmente per capire la nascita anche semplicemente della definizione di sacramento che ci viene data da Pietro Lombardo bisogna in realtà ritornare a un mondo che era scosso in qualche misura da quello che noi diremmo le tereodossie. Questo perché anche la dogmatica sacramentaria come tutto il piano dogmatico della chiesa è interlocutoria come teologia. Che cosa significa? Che c'è un dialogo tra il magistero e in qualche misura anche un dialogo poi con quelle che sono i movimenti ereticali, i tereodossi mediovali. Tra questi bisogna ricordare sostanzialmente per l'alto medioevo l'adozionismo della marca spagnola che ci ha dato poi quello che noi chiameremo realismo eucaristico ma anche le basi per arrivare ad una definizione di sacramento in genere e per poi arrivare a quelle che sono più interessanti per noi come tereodossie ovviamente del popolo di Dio quindi le tereodossie laicali, i movimenti cosiddetti evangelici mediovali che già iniziano tra undicesimo e dodicesimo secolo i quali interpretano in qualche misura una risposta alla formazione di una chiesa che noi diremmo la chiesa delle riforme gregoriane. All'interno di questo sostanzialmente si ha una struttura del sacramento che conosciamo oggi in quanto tale diviso in sette sacramenti che sono i sacramenti messi in discussione soprattutto da una forma ereticale che ha avuto poi diciamo un discresso successo all'interno del mondo laico, dei movimenti laicali mediovali che è quella dei Pietro Brusiani. I Pietro Brusiani nascono ovviamente in Francia e denunciavano esattamente l'impossibilità da parte della chiesa di ripetere ciò che Cristo aveva posto storicamente tanto come ministri tanto come sacramenti perché era circoscritto alla vita temporale e corporale del Cristo. Di fronte a questo ovviamente la chiesa specialmente la chiesa di Pietro il Venerabile in qualche misura Abate di Cluny risponde a questa provocazione e inizia a ripensare la vita sacramentale all'interno di una struttura ecclesiastica dove lentamente il centro del sacramento è stranamente uno dei sacramenti di governo cioè l'ordine. L'ordine perché pur non essendo necessario ad esempio per la salvezza del singolo cristiano, del singolo fedele, è in realtà poi necessario per l'amministrazione di quasi tutti i sacramenti, fatta eccezione per il battesimo per il quale il ministro ordinato era preferibile ma ovviamente non l'unico, si dice già nell'alto medioevo che poteva perfino battezzare una donna sotto questo profilo, le nutrici soprattutto le levatrici. Quindi l'aspetto sociale e l'aspetto ereticale prende sotto questo punto di vista la prima parte del manuale per comprendere poi come si arriva ad avere una definizione in genere di sacramento che è sostanzialmente quella che ci viene dato da quello che noi chiameremo una resiarca che è del XII secolo Berengario di Tur e questo fa emergere un interessante modo di recepire anche l'eterodossia da parte del Magistero e cioè viene condannata in qualche misura in due sinodi le posizioni sull'eucaristia di Berengario di Tur per simbolismo ovviamente eucaristico per negarne nella presenza reale ma sotto un certo punto di vista ne prende la definizione di sacramento in genere che è quello che usiamo ancora noi, forma visibile della grazia invisibile. Ecco questa è una formulazione che in realtà non è Sant'Agostino ma è un prodotto ultimo dell'undicesimo secolo di quelle che sono ovviamente le controverse eucaristiche che per pensare un sacramento prima di tutto ha dovuto pensare una formula generale del sacramento quindi il sacramento in genere e la dogmatica lo fa sua e quindi se si arriva a Pietro Lombardo si scopre alla fine che per avere l'idea di che cosa sia un sacramento in genere in realtà non si può prendere una sola definizione di sacramento ma Pietro Lombardo tiene insieme tutte e tre le grandi definizioni di sacramento per dire che il sacramento come segno è ovviamente non riducibile a un'unica realtà quando il suo effetto è realtà è importante. Pietro Lombardo poi inserisce anche una triade fondamentale all'interno del sacramento per dirci quando c'è il sacramento cosa che spesso viene dimenticata che è formata da il ministro ovviamente forma e materia per quanto riguarda poi la sostanza con cui viene amministrato il sacramento il battesimo ad esempio l'acqua e la forma cioè ovviamente le parole con i quali queste vengono associate. Detto questo Pietro Lombardo introduce un terzo elemento che è quello fondamentale cioè il colui che lo riceve questo diventa fondamentale noi ce lo siamo dimenticato che il sacramento funziona solo se c'è chi lo riceve e questo perché la chiesa mediovale ha ovviamente proietta il sacramento su un diremmo panorama che noi oggi abbiamo diciamo allontanato che è quella dell'estatologia il pensiero e la vita dell'uomo mediovale estremamente scatologico quindi tutti i sacramenti sono in vista dell'estatologia cioè dei nuovissimi sotto questo punto di vista e infatti per comprendere il sacramento nel medioevo si deve avere almeno di fronte anche la struttura l'evoluzione del pensiero teologico fino ad arrivare alla scolastica. Per quanto riguarda l'alto medioevo si parte semplicemente dalla forma ecclesia normalmente quindi come è formata la chiesa per arrivare a capire qual è il sacramento e come vengono amministrati i sacramenti all'interno della chiesa mentre la scolastica introduce i sacramenti dentro un ambiente o un panorama molto più ampio iniziando da una speculazione un pensiero su chi è Dio per arrivare poi alla caduta dell'uomo l'incarnazione l'istituzione della chiesa dei sacramenti per terminare con i nuovissimi. Il sacramento si pone tra il riscatto dell'uomo per quanto riguarda il peccato dei progenitori e si proietta però immediatamente su quello che è in realtà poi la dimensione più scatologica della vita dell'uomo cioè la visio dei e questo diventa fondamentale. Per capire bene come funzionano i sacramenti e qui concludo così si capisce bene il sistema si può anche nel manuale presente prendere la parabola di Dante e della commedia perché sostanzialmente si capisce che cosa qual è la funzione del sacramento e qual è lo scopo della vita di un uomo. Lo scopo della vita dell'uomo semplicemente la visio dei e sacramenti come dice Rabano Mauro la chiesa stessa come sacramento ha il compito di condurre l'uomo al sabato eterno quindi nel settenario quando si parla di battesimo è l'ingresso nella vita quando si parla di unizione degli infermi è l'uscita della vita ecco perché poi è diventato l'estremo unzione ma non riferito soltanto alla malattia del corpo ma al destino stesso della persona. E se poi si continua ovviamente con Dante interessante diventa l'inferno perché l'inferno è esattamente l'esempio massimo di che cosa significa eh il rito della penitenza eh senza però avendo commesso una colpa senza la possibilità di espiazione e questo è il cuore in qualche maniera della sacralentaria mediovale della penitenza perché nonostante che venga posto penultimo come tra i sacramenti di necessità eh dal magistero e i teologi lo trattavano subito dopo la confermazione prima dell'eucarestia perché la penitenza era quella che riportava l'anima dell'uomo a una sua purezza data dal dal battesimo per potersi comunicare che significava l'eucarestia in quel periodo soltanto viatico soprattutto il viatico. Nell'inferno infatti Dante ci mostra in qualche misura un uomo con la sua colpa senza possibilità di espiazione. Cioè colpa c'è eh la penitenza per la colpa ma non c'è espiazione. Se non c'è espiazione non c'è visio dei. La cosa cambia quando andiamo nel purgatorio perché il purgatorio è costruito esattamente utilizzando tutti quei eh tutto il rito della penitenza più sostanzialmente anche gli inni che venivano utilizzati per eh dai penitenti. Interessante c'è anche l'inno per il corpus domini perché esattamente quell'inno riporta l'eucarestia al motivo centrale medioevo che è semplicemente quello del viatico. Ecco interessante lì vedere che c'è la colpa che rimane c'è la penitenza ma ovviamente c'è l'espiazione e quando c'è l'espiazione sostanzialmente poi c'è l'accesso al paradiso che non è altro che la visio dei a seconda dei gradi della beatitudine. E questa è la visione sacramentale della chiesa medioevale perché se si si ferma sui sacramenti nel medioevo dobbiamo capire esattamente da dove si parte e in realtà quindi mondo terreno ma qual è il destino dell'uomo? Questa è la grande domanda del sacramentale medioevale. Ovviamente la risposta eh già ve lo dava è eh la visio dei quindi il paradiso sotto questo punto di vista ed è interessante che Dante mettendo in atto tutti quegli inni che per noi sono fondamentali anche per la ricerca eh storico sacramentale ritroviamo quegli stessi inni per un altro eh sacramento che è il sacramento dell'unzione dell'inferno cioè dell'uscita dalla vita. Gli stessi inni che vengono utilizzati per la penitenza sono gli stessi inni utilizzati per l'unzione del malato che nel medioevo non è una questione come oggi quando viene ancora eh accettata tra il penitente il malato e il presbitero ma il ministro ordinato ma in realtà era una rito comunitario la comunità accompagnava con questi canti il presbitero e la fede della comunità dell'ecclesia cioè della chiesa intera agiva per la guarigione spirituale corporale della persona che ovviamente non significa eh guarizione corporale come noi la pensiamo ma significa l'accesso alla visio dei e questo significa che sostanzialmente le persone eh che ricevevano l'unzione ricevevano anche l'eucaristia e questo era diciamo la sintesi quasi l'unzione degli infermi di quello che era il percorso sacramentale della chiesa medievale. Ecco. Eh professore complesso eh? Eh beh insomma. Secoli di dibattiti di discussioni di controdiscussioni eh è un argomento complesso per il quale occorre dotarsi di un manuale. Eh beh sì sì anche per sapere fino a che punto ci sono stati presbiteri ad esempio uxorati abbiamo una lunga storia dei presbiteri uxorati oppure eh è interessante vedere che il docenso terzo ancora parla di comunità eh riunite senza presbitero presedute per l'eucaristia dall'anziano della comunità che era un uomo sposato ovviamente quindi è proprio molto complessa la storia dei nostri sacramenti e non identificherei immediatamente quello che oggi noi conosciamo della vita sacramentale della chiesa subito dopo Trento con quello che è stata è stata la storia dei sacramenti che è molto molto più complessa soprattutto nella chiesa latina se consideriamo l'assetto politico della del diciamo ex impero d'occidente dove in realtà il venir meno di unità politica ha fatto anche in modo che emergessero nella chiesa latina più chiese che ovviamente non erano la chiesa di Roma la chiesa di Roma si impone da un secolo diciamo inizia nel sesto secolo e lentamente poi nel tredicesimo trova la sua forma e quindi anche la vita sacramentale troverà una sua forma quando la chiesa ha trovato una sua stabilità che noi chiamiamo riforme gregoriane. Certo quindi occorre che io rammenti il titolo di questo manuale in modo che le persone interessate possano andare a comprarlo ed è Christus Christi et sacramentum una storia dei sacramenti nel medioevo di Claudio Baldo Cortoni pubblicato dall'editrice domenicana da pochissimo che per tutti coloro che sono interessati a questo argomento ma anche all'evoluzione dal punto di vista non solo sacramentale ma storico della chiesa cattolica romana nell'occidente è indispensabile quindi consiglio sentitamente l'acquisto a tutti quanti e ringrazio professor Cortoni per avercene fatto una sintesi così efficace ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e vi do appuntamento alla prossima video presentazione grazie professore ancora grazie Grazie.